È il Casentino la ventiduesima tappa scelta dal presidente della regione Enrico Rossi per il suo viaggio in Toscana, il tour con il quale ha voluto conoscere da vicino le realtà produttive del territorio. Dopo la visita a Castelfocognano di un centro disabili, Rossi è andato insieme all'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli a Bibiena a conoscere Aruba, uno dei principali internet service provider italiani, un'eccellenza nella gestione di domini e caselle di posta in grado di fare concorrenza ai giganti del mercato. Una di quelle realtà che ricordano la forza della Toscana nonostante i tempi di crisi. La Toscana presenta tante difficoltà, ciò che esiste, conosco la crisi imprenditoriale che hanno alcuni settori, che hanno alcune aziende qui nel Casentino, ne riparleremo anche più tardi, ma accanto a questo bisogna guardare anche con grande attenzione a queste realtà e fare di tutto per tenerle. Un'occasione anche per fare il punto sui prossimi investimenti sulla banda larga. Rossi ha annunciato 80-90 milioni di fondi europei entro il 2015 per rendere più veloce la rete internet e migliorare l'accesso. È stata poi la volta della Miniconf, azienda di abbigliamento per l'infanzia, con sede a Dortignano Raggiolo. Il governatore ha poi incontrato operatori sanitari del territorio, sindacati ed organizzazioni di volontariato. Prossima tappa del viaggio in Toscana è Lucca.